Un pezzo di lettera Qualche volta non posso fare a meno delle cose ripugnanti. Mi sento arrossire e ne provo una sensazione di rimorso, ma resisto per essere disgustato quanto è possibile fino in fondo, finché nella mia anima non pare quasi un sogno. Tu mi dirai, amica mia, perché scrivo così. Ecco, ricopio qui una lettera che ti avevo scritto l'altro ieri e che non osai mandarti, ma la leggerai ora. Ho un appuntamento con quella solita donna maritata di cui ti ho parlato altre volte. Erano più di sei mesi che non la vedevo perché quella che ci tiene di mano l'avevano mandata via di casa e non aveva potuto trovarne subito un'altra dove fosse possibile trovarci. Ora stai in via del Pignattello, in un casamento dove sono almeno 40 inquilini, tutti poveri, all'ultimo piano. Non sapevo se era meglio salire in fretta per tentare che non mi vedesse nessuno o se fingere di esserci stato già un'altra volta. Non ho fatto né in un modo né in un altro. Cioè ho salito quasi di corsa, una branca di scale, al pianerottolo dove saprono subito due lunghissimi corridoi, pieni di usci. Mi dimenticavo di dirti che questo casamento prima era un vastissimo seminario e che mi soffermavo per assicurarmi che non scendeva nessuno. Siccome era di mattina e l'aria non ancora cambiata bene, ho sentito ogni specie di odori. Latrina, cavolo bollito, lezzo, sudiciume e altro ancora. Mi è venuta la sputarella. Finalmente ho trovato l'uscio. «Marianna? Oh, entri pure!» Marianna lavava con uno strofinaccio una di quelle lanterne che attaccano sotto il carro i contadini. «Richiuda subito l'uscio!» «Non è venuta ancora?» Ella mi ha fatto cenno di no, sorridendo, e si è rimessa al suo lavoro. «Lo pulisco perché è vergogna restituirla così. Me la prestò a un contadino perché feci buio e avevo da attraversare una trave sopra un borro. Io non ho risposto. Ho guardato com'è la cucina. Siccome siamo al tetto e senza soffitta, da una parte, sopra il focolare, bisogna chinarsi per non battere la testa. Ho dato un'occhiata alla camera, dall'uscio aperto, e ho visto due enormi letti, alti quasi due metri, fatti con materassi sopra due caprette di legno. Tre piccioni beccavano il gran turco sul cassettone, cozzando con la coda per muoversi e girare intorno. Una pettinina unta e piena di capelli sporchi. Un pezzo di specchio è appoggiato al muro, gli orinali non sono stati vuotati. «Quanti dormite di là?» mi ha risposto ridendo «In quattro!» «Io, il mio cognato, il mio figliolo e...» «E...» «Perché lo vuol sapere?» «Ho capito.» «E il mio ganso.» Si è asciugata le mani e battendosele sul ventre ha seguitato «E un altro figliolo, l'ho qui dentro.» «Ho riso anch'io.» «Se la vuole aspettare in camera, ci vada pure, le porto una sedia, si vette a sedere.» Sono entrato in camera facendo paura ai piccioni. Marianna, togliendosi il grembiule bagnato d'acqua e accennandomi i letti, mi ha detto «Almeno là sopra c'è solo.» Io ho risposto «Voi andate in cucina e state alla finestra. Io mi chiudo di qua così se viene qualcuno da voi non mi vedono.» «Ora, ora, c'è tempo!» Io credo che si sia mezzo spogliata non per cambiarsi, ma per piacermi. Infatti, sbottonandosi il giacchetto, mi guardava fissa e sorridente perché io le dicessi qualche parola. È così sudicia che quando si è grattata il collo il sudicio nero e grasso le veniva via appastellandosi tra le dita. Ha anche un occhio pieno di cipicchia che pare catarro. Agli angoli della bocca c'è qualche cosa biancastra e filaccicosa. Le mancano i due denti di mezzo. È andata in cucina e io, quasi atterrito ad essere qui ad aspettare, mi sono messo a scrivere a te. Ora ti racconto tutto di mano in mano. Torna all'improvviso con un bicchiere che sarebbe impossibile lavare. Vuol bere? E alzando l'altra mano da dietro il dorso dove la teneva nascosta, mi fa vedere un fiaschetto. Io rispondo grazie. È buono, sa? Guardi che bel colore. E mesce un vinello torbido che odora di aceto. L'ho sentito perfino con tutto il puzzo della camera. Puzzo forse di piedi non lavati. Il mio stomaco si chiude. E perché scrivo a te che sei l'anima più pura che io amo? Io non lo so. Me lo direi tu. Dalla finestra che pare una gattaiola vedo soltanto il tetto di una chiesa. Un tetto vecchio. E di là come se non ci fossero altre case benché ce ne siano parecchie invece la campagna che non pare lontana. Vedo anzi un pezzo di campagna piena di alberi vicino ad una strada dove noi siamo stati insieme. E vedo anche il cielo se mi abbasso e guardo in su. Ma ho paura che ci sia gente alla finestra di faccia. Sento giù nella strada ruzzare i ragazzi e qualche donna che chiacchiera. Spero che Angelina non venga perché dovrei salire su uno di quei due letti che mi fanno lo stesso effetto dell'età mia mucchiato. Certo qui non torneremo più e temevo che su quel letto anche Angelina mi avesse ripugnato e che non avesse avuto dopo più desiderio di lei ma ricordavo come ella si profuma con la cipria e nero eccitato. Si mette un odore che si mescola così bene con quello della sua carne che pare uno solo. Allora sul letto è come una rosa che si stropiccia tra le mani e l'odore della carne si fa sempre più acuto. Marianna riapre l'uscio e mi chiede s'annoia venga di qua con me ma ci sentono parlare o che importa in casa mia non posso far venire chi voglio e se poi vedono salire anche lei la signora Angelina e poi sapete che posso essere riconosciuto ella si gratta i capelli con una forcella e mi risponde faccia come vuole scusate bisogna far così per precauzione e non per altro Dio Cristiano ho capito mi ero messa a pensare una cosa non mi ero mica avuta male di niente che pensate? Il fornaio deve avere 18 lire e mi ha mandato a far sapere per il mio ragazzo che se domani non lo pago non mi dà più pane accidenti e si piglia la testa tra le mani il mio cognato è troppo vecchio e in questi giorni per di più è piovuto sicché non ha potuto lavorare fa il manovale il mio ganso anche lui bisogna che pensi ai suoi fatti c'è un figliolo che lo vuole ammazzare perché viene da me ora prima d'andarmene vi darò qualcosa io non ho mica detto così perché lei mi desse qualcosa io lo fo per amicizia è tanto tempo che conosco la signora Angelina ma io vi darò qualcosa lo stesso ella si è messa a spazzolarsi le scarpe e io sono rientrato in camera è passata una mezz'ora già ho sentito battere l'orologio della chiesa mi alzo e dico a Mariana scommetto che non viene è già tardi accidenti anche a lei non è la prima volta che fa così che si senta male la sua bambina io richiudo l'uscio stringendo con impazienza il crocino mi rimetto a sedere su questa seggiola che è appena starrita e penso se crede di burlarsi di me sbaglia non mi vuol più bene non me ne era accorto quando la incontravo per strada ma è l'ultima volta che le parlo tuttavia nella mia rabbia c'era anche un'esasperazione sensuale non posso fare a meno di averne desiderio Angelina entrerà domanderà sottovoce se ci sono poi mi verrà quasi addosso io le bacerò la bocca lei si discosterà subito e mi dirà quante volte mi hai tradito io in quel momento non me lo ricorderò davvero in buona fede e subito la ribacerò pregandola in un orecchio che si spogli ella sorriderà guardandomi con quella sua aria tranquilla ma così bella e sensuale mi devo spogliare anche oggi io le prenderò i polsi e le griderò sottovoce non mi vuoi bene glielo dirò tante volte che ella perché io non glielo dica più risponderà senza guardarmi non è mica vero invece te lo voglio e poi smettendo di slacciarsi e appoggiandosi con una mano a me zitto chi c'è non è mica mariana sola oh che paura allora finisco io di spogliarla toltasi la camicia ella ha meno pudore di me quasi tutte le donne o tutte sono così mi dimenticavo che scrivo per te il lapis mi ha fatto indolenzire le dita e perciò interrompo la lettera la riprendo sono così contento di scrivere a te ormai angelina non verrà di certo ma ora più di di anzi l'aspetto e mi illudo che debba venire mi pare perfino impossibile che io sia stato qui solo tutto questo tempo eppure è proprio così suonano le undici è già un'ora a mezzogiorno il suo marito torna a casa e quindi non ci sarebbe nemmeno più tempo che le sia avvenuto l'ha chiusa a chiave è andata a un altro appuntamento si è fermata in qualche bottega si è ammalata la sua bambina chiamo marianna perché sono molto stizzito è un bel modo mi fa venire quassù e lei non si vede se ne sia dimenticata questa domanda mi fa dubitare che marianna la conosca meglio di me avevo già notato che lei è molto astuta in generale io detesto l'astuzia ma quando magari quella degli altri mi può essere utile mi fa piacere è una specie di vendetta giusta che difende la mia fiducia tuttavia rispondo è impossibile ella mi guarda capisce che c'entra il mio amor proprio e a capobasso dice e allora io non lo so lo sapete voi scuotendo la testa e pulendosi il naso con le unghie mi risponde io nemmeno me ne vado dunque aspetti un altro poco se la incontra per le scale è vero non potrei risalire per via dei pigionali rientro in camera e mi rimetto a scriverti di quando in quando il puzzo della stanza vince la mia pazienza e io mi vergogno di star qui e mi viene voglia di trattare male marianna ma è inutile il desiderio di angelina è troppo quando richiamo marianna bisogna che nasconda il tremito della voce e io guardo questa donna di 40 anni sporca e puzzolente quasi provando piacere e la se ne accorge e mi sta intorno cozzandomi qualche volta non vedo i suoi capelli e il suo collo ma soltanto le calze sdrucite con la pelle scoperta e allora mi viene la tentazione di alzarle le sottane non so come mi reggo ella se ne accorge sempre di più ride fa la lasciva mi picchia sopra una mano sento che dopo soffrirei con una umiliazione terribile devo fare uno sforzo per nasconderle la nausea che mi fa la sua faccia ella ride e aspetta mi tremano le mani e non potrei parlarle o l'uccido o cedo mi distraggo pensando a te fra lei e me sento la tua anima e perché questo bestiale obbrobrio se lo risapesse Angelina è una cosa sozza no no mi par d'avere in bocca il suo odore disgustoso sarà lo stesso che una cagna penso a te continuamente e allora mi pare una cosa ridicola penso ad Angelina e mi vergogno ma ho atteso troppo e non so più quel che faccio dio mio com'è stato possibile mi par d'essere ancora sporco e quell'odore ancora su dentro il naso non vedrò mai più Angelina e questa lettera ti parrà pazzesca ma se in quella camera non avessi pensato a te vorrebbe dire che io non avrei l'anima che ho appunto tutto quel putridume l'ercio innalzava la mia anima verso te e di più sentivo come è meravigliosa e pura la nostra amicizia la mia anima respirava dentro la tua e tutte quelle cose indegne le insegnavano quanta gratitudine io ti devo sei convinta come me che ero tuo anche allora dura